Di ciao ragazzi Sono contento, sì Perché finalmente video Un unboxing dei giochini Che siamo andati a prendere lì A GameStop Prima cosa Vi faccio vedere sto cappellino Di Mario Odyssey Lo indosso, almeno sto attento Non mi dite fa schifo perché vi uccide Primo gioco che andremo ad unboxare L'ho preso a caso E a caso Il caso avvoluto che andiamo ad unboxare Cosa Che andiamo ad unboxare Assassin's Creed Origin Ok Ragazzi Si è spaccato tutto Vai ragazzi Mamma mia 4k Xbox One X Guardiamo 4k ultra HD HDR con Xbox One X Ottimizzato con Xbox One X Come saprete Mamma mia che gioco Mamma mia ragazzi Giochi che aspettavo Ragazzi I giochi più belli Stanno uscendo adesso Comunque la classifica Di fine anno Avrà Tanti Tantissimi Ma tantissimi giochini Comunque questo Che cos'è Che cos'è Che cos'è Cos'è Adicino No 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 Codici Codici Romanzo di Assassin's Creed Origin C'è anche il romanzo Comunque Season Pass Ci sarà il codice Del Season Pass Io mi sto facendo Vedere nulla Perché mi spaventa Che ci sono codici No Qua non ci sono codici Questo è il nuovo romanzo Di Assassin's Creed Deserto Bellissimo Qua Qua c'era questo Qua Non c'è niente Hai da comprare A parte Il Season Pass Poi 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 Il romanzo Assassin's Creed Origin Istruzione di gioco Piccolissimo Questo non è nulla Non c'è scritto niente Qua Questo è Assassin's Creed Origin Il gioco Cosa c'è C'è una piramide Che è praticamente Pazzesca Un faraone Stupendo Giocheremo Sì 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 Giocheremo Fino alla fine Assassin's Creed Origin Piramide Vediamo il nostro assassino Bellissimo Una storia sempre di Allora Quando tutto è benissimo Antico Egitto Una terra magnifica Ora decadente E manipolata Da forze oscure Torna alle origine Del credo E prendi parte Delle sue creazioni La tua avventura Cambierà la storia Per sempre Prova i tuoi valori In combattimenti Completamente nuovi Con i cammelli Anche ragazzi Guardiamo Con i cammelli Pazzesco Una storia sempre diversa E centinaia di missioni Porta alla luce Segreti che si Celano dietro I tuoi nemici Ok Questo ragazzi È Assassin's Creed Origin Vediamo Adesso ci sono Queste sono le nuove copertine Xbox Che qua ci dice Xbox One X Ottimizzato Ultra HD Praticamente Questo si può giocare Ragazzi In 4K Pazzesco